Non succede più niente tra noi. A letto. Io dormo. Ha mai pensato di trovarsi un amante? C'è Tinder, ma ci sono anche altre app. Ce n'è una proprio per le persone sposate. Mi potresti fare una foto, per favore? È per dottori.com, adesso è obbligatorio. Davvero? Eh sì. Alphonse, 42 anni. Chi è? Ebay. È incredibile. Le persone fanno un milione di domande e neanche stessero comprando una casa. Allora, da quanto sei sposata? 16 anni. Io sono divorziato. Non ho intenzione di lasciare mio marito. Quando inizi a connetterti ai tuoi desideri non si può tornare indietro. Si spalanca una porta. E senza fine. Vorrei che mi baciassi. Mi dovrò assentare domani. Mi chiami pazienti e sposti gli appuntamenti, per favore. Ci sono appuntamenti che ho spostato già trivolti. Come glielo dico? Bisogna imparare a dire sì. A scoprire il vostro corpo. Scoprire gli altri corpi. Baciarsi. Godere. Comunque è fuori discussione. Non rinuncerò più ai miei desideri. Al piacere.